Quanta tenerezza per i miei devoti! 20 agosto 1974. Figli di Letti, sia pace a voi e grazia ed ogni bene. Sono Maria di Nazareth, sono la madre vostra Immacolata, e voglio incoraggiarvi a proseguire e a progredire nella mia devozione, perché possiate trovare in essa tutti quegli aiuti che vi sono indispensabili per combattere il male, per difendervi dai pericoli che vi circondano, per portare la croce d'ogni giorno e per farvi santi. Tutti questi aiuti ottennero da me i santi del Paradiso, specie quelli che si qualificarono in vita come grandi miei devoti. Non sto a parlarvi di Domenico, che fece del mio rosario il mezzo per vincere le eresie. Non vi sto nemmeno a citare i nomi dei santi fondatori di ordini religiosi, che nella mia devozione trovarono la forza di superare difficoltà senza numero, ma vi parlo di sante mamme, di santi papà e figli, che, amandomi ed imitandomi, trovarono la forza di compiere i loro quotidiani doveri e poterono così raggiungermi nella gloria. Sapeste quanta tenerezza nutro per quei figli che sono veramente devoti a me, quei figli cioè, che si studiano di combattere i loro difetti ed imitare le mie virtù, e che fanno della loro vita una vera offerta d'amore a Dio. Lo so che molte volte vi manca la forza per portare la croce, ma se mi amate veramente mi sentite vicina, ed io mi prodigo per voi. Qualche volta concedo di sentirsi ricambiare l'affetto e persino il saluto. Ricordate il mio figlio Bernardo che soleva salutare una mia effigie, dipinta sul muro, con un cordiale saluto. Ave Maria, mi diceva, al quale saluto rispondevo di cuore. Ave Bernardo. Se voi poteste sapere con quanta generosità e con quanto amore, ricambio ogni anche piccola delicatezza che io ricevo da parte vostra. Quanta ricompensa per tante piccole cose che voi alle volte fate, credendo che vadano a vuoto. Nulla dimentico, e specie nei momenti in cui avete più bisogno, io sono lì come per pagare dei debiti che ho verso di voi per le gentilezze ricevute. Ciò che più mi tocca il cuore è la delicatezza dei genitori che procurano di farmi entrare nel cuore dei loro figli. Quando vi entro io, ne divento padrona, ed assicuro la loro salvezza eterna. O, se si sapesse parlare di me ai bambini. Parlare non come di una persona estranea che non ha niente a che fare con loro, da guardare solo come statua, ma come di una persona vivente e buona, come di una mamma. Io attrago al mio cuore i bambini e i giovani e concedo loro grazie particolari. Le guido nella loro crescita e nella scelta della loro vocazione. Più mi amano e più affino la loro anima e coltivo in loro quelle virtù che piacciono a Dio. Benedico, proteggo ed aiuto le famiglie, in cui conservo la fedeltà coniugale e le virtù domestiche, così da far regnare in esse benessere e concordia. E gli anziani che mi amano e che sono a me devoti, che cosa ricevono? La pazienza nelle loro infermità e croci, e la grazia di non essere eccessivamente di peso ai loro cari. Quanti santi vecchi, chiudendo gli occhi alla luce del mondo, incontrano il mio sguardo pieno di misericordia e di luce divina e il mio sorriso pieno di bontà, mentre stringono tra le mani il rosario non già perché viene loro messo tra le mani, ma perché è stato il compagno inseparabile delle ore tristi e liete della vita. Figli, se volete che le vostre amicizie siano solide, osservate se nei vostri discorsi entra con facilità il nome di Maria. Sì, questo nome benedetto da Dio che porta serenità a chi lo pronuncia con fede. Se volete che le vostre opere, i vostri lavori, le vostre imprese fioriscano nelle vostre mani, iniziatele col mio nome. Io porterò i vostri desideri fino al trono di Dio e sarò felice di aiutarvi a portare tutto a compimento. Figli di letti, la mia devozione è come una porta che si apre e chi vi entra non può più sfuggire alle mie mani. Chi trova me trova Gesù, trova la salvezza. Coraggio dunque, siate docili. Venite qui spesse volte, tutte le volte che le vostre occupazioni ve lo permetteranno. Portatemi i vostri cari, quelli lontani con qualche piccolo stratagemma, quelli che amate. Portateli in nome di quell'amore che io nutro per essi. Portatemi gli amici e coloro che desiderate aiutare. Non rammaricatevi se qualcuno che vi era amico vi ha abbandonato. Raccomandatelo a me, ed io lo richiamerò vicino al vostro cuore dopo averlo fatto mio. Il mondo è un semenzaio di male, ma quando scoprite delle anime mie devote, rallegratevi. Lì c'è un'oasi dove la sorgente che disseta viene dal cuore di Gesù e mio. E quell'acqua purissima può disintossicare molte anime, avvelenate dalle acque inquinate del mondo. Figli, vi benedico tutti con particolare affetto e vi rispondo per quelle numerose Ave Maria che mi avete detto. Ave figlie, ave figli. Nel mio nome e per il mio nome siate felici.